Ciao Thomas, ciao ragazzi! Oggi siamo qui a consegnare questa meravigliosa Ducati Panigale V4 Speciale. Non si dice il numero, ovviamente una moto in edizione limitata e numerata. Sono 1500 esemplari e Thomas oggi diciamo che si porta a casa un po' un sogno, no? Un bel sogno! Racconta un pochino la tua esperienza con le moto, da dove arriva la tua passione, chi sei, raccontaci un po'. Allora, nulla, io sono un ragazzo a cui ho appassionato moltissimo le moto. La mia passione nasce nel 2004, quando ho preso la prima moto, era una Monster. Poi nel tempo avevo avuto varie altre moto, per cui anche una brutale, poi un upper motard. Poi prima di questa avevo una tricolore e adesso ho trovato la moto dei miei sogni, diciamo. Come sei venuto a conoscenza di MotoAgento? Allora, sono stato contattato da Daniela e da lì poi ho conosciuto il vostro mondo, ho portato la mia moto e poi tra una cosa e l'altra ho visto che è arrivata questa moto in vendita e da lì poi abbiamo combinato le due cose e oggi sono qui. Oggi sei qui a ritirarla. Sono qui a ritirarla. Che intenzioni hai con questa moto? Che cosa ci farai? Allora, l'intenzione della moto è puramente passione, quindi la moto verrà attivata proprio per qualche girettino domenicale, però nulla di che, ecco, è stata fatta per una, diciamo, chiamano investimento, diciamo, per una moto così particolare. È questa la sua destinazione. Come ti sei trovato nella nostra realtà, nel senso, con i meccanici, i ragazzi? Allora, è proprio un bel team, non perché veramente mi sono trovato bene, dall'inizio fino alla fine adesso che siamo qui alla consegna, seguitissimo Andrea, poi che mi ha seguito dal lato, diciamo, burocratico, tempistico e quant'altro, molto professionali e consiglio di volonte. Cioè, ho apprezzato molto. Perfetto. E niente, hai detto che consiglierai, quindi? Consiglierò, ovviamente. Aspetterò, aspetteremo. Grazie mille. E niente, ci vediamo alle prossime. Grazie. E speriamo che tornerai qua a fare magari qualche accessorio o qualche cosa. Volentieri. Ok? Grazie. Ciao ragazzi, ci vediamo.